Buongiorno a tutti e ben ritrovati ancora una volta a punto di contatto. Oggi parliamo di una multinazionale che sta delocalizzando. Si tratta della Key Safety Systems, azienda che produce airbag e sistemi di produzione per automobili. Da Colleferro stanno spostando produzioni e macchinari in Romania. Questo che cosa significa? È probabile una completa dismissione del sito. Ma ne parliamo oggi con il nostro ospite che vado a presentarvi, è Fabrizio Giacomi, RSU per la Femme Cacisle, all'interno dello stabilimento. Buongiorno Fabrizio. Grazie di essere intervenuto. Grazie a voi. Senti, cominciamo subito. L'azienda vi ha prospettato un piano di ristrutturazione un po' pesante. Che cosa prevede questo piano? Sì, il piano è veramente pesante, prevede una delocalizzazione imminente. La delocalizzazione delle linee di produzione è già iniziata e adesso si concluderà con, purtroppo, la riduzione del personale. Da maggio inizierà la procedura di mobilità prevede 210 dismissioni. 210 lavoratori su quanti siete oggi? 430. Siamo rimasti in 430. Quindi circa il 50%. Circa il 50%. Una bella fetta, insomma. Una fetta molto sostanziosa, purtroppo. Senti, ma attualmente la produzione c'è? Voi state lavorando oppure no? Noi stiamo lavorando e attualmente stiamo tamponando la riduzione di volumi con la cassa integrazione straordinaria, che però termina a metà maggio. Quindi state facendo un periodo di cassa integrazione? Sì, facciamo cassa integrazione a rotazione con una media di 100 lavoratori al giorno, a giro, a rotazione. E la motivazione è perché c'è stato un calo di volumi, ma per le vendite oppure per altro? Più che calo di volumi c'è stato uno spostamento di volumi. I volumi li abbiamo acquisiti, i volumi come società ce li abbiamo, però è stato deciso di produrli in Romania anziché a Colleferro. Oggi a Colleferro quanti airbag escono in un anno? Noi abbiamo chiuso l'anno 2013 con la produzione di 2 milioni e 600 mila airbag. Per il 2014 il previsione di vendita è di 800 mila. Quindi anche quella si riduce fortemente. In Romania invece quanti se ne producono? In Romania adesso si producono ad oggi oltre 8 milioni e arriveranno nel 2018 a 12-14 milioni di airbag. Quindi è completamente dislocata insomma questa produzione. Tu di che cosa ti occupi nell'azienda? Io produco airbag, faccio l'operaio e lavoro sulle linee di produzione. E da quanto tempo? Dal 96 quindi sono quasi 18 anni. quindi hai visto insomma diverse fasi dell'azienda anche il suo declino. Ci vuoi raccontare? Ho visto anche la crescita, quella era bella. Quando sono entrato io eravamo in 50, siamo arrivati fino a quasi 900 dipendenti e poi purtroppo dal 2003 in poi è iniziato il declino. E come mai quindi hanno cominciato a spostare le produzioni? Mi dicevi che c'erano anche le cinture di sicurezza fabbricavate? Sì, facevamo sicurezza a tutto tondo. Poi dal 2003 hanno iniziato spostando le cinture sicurezza in Romania e da lì si è iniziato a costruire un nuovo stabilimento di airbag e spostare anche le produzioni di airbag. Noi praticamente siamo partiti dall'anno scorso che ogni settimana ci tolgono una linea e la portano in Romania. Quindi anche i macchinari stanno già viaggiando? Sì, già sono tanti quelli che sono partiti. Senti, e nel sito italiano, questo di Correferro, che cosa rimane? Rimangono le produzioni italiane. Chi fa automobili in Italia verrà prodotto a Colleferro, per parola dei nostri dirigenti e del nostro Presidente. Tu lascerà a Colleferro tutte le produzioni italiane perché c'è una questione di costi, quindi per i trasporti vale anche la pena farli. Tutti i clienti stranieri, quindi fuori Italia, si fanno in Romania. Quindi voi chi servite? La Fiat come casa automobilistica? In Italia sì, ma noi saremo pronti anche per il seguimento delle macchine elettriche. Chiunque produce un'automobile in Italia che monta un airbag, noi saremo pronti per farlo. Senti, ma tra di voi ci sono un po' questi timori per la completa dismissione del sito? Eh sì, il timore è grande, perché insomma finché siamo un sito di 430 dipendenti, una volta dimezzati che si rimane in 220 diventa molto più facile la chiusura. Poi come abbiamo visto anche l'evolversi, all'inizio le cinture di sicurezza erano un prodotto a basso contenuto tecnologico e sono state portate in Romania. Il know-how degli airbag, c'era più tecnologia, è rimasta a Colleferro. Dopo 5 anni anche quello degli airbag si sono risolti i problemi e va in Romania. Adesso a Colleferro rimangono prevalentemente gli inflators, che è il generatore di gas per aprire l'airbag, che è un prodotto ad alto contenuto tecnologico. Ma da lì a breve uno presume che entro 2-3 anni sposteranno anche quello. Quindi si andrà alla definitiva chiusura. E la preoccupazione è tanta, perché poi sul territorio non ci sono molte altre possibilità di collocazione. Il territorio è già fortemente depresso, purtroppo è la Valle del Sacco, nota in regione a tutti. Il territorio è già fortemente depresso, quindi di questa si va ad aggravare una situazione già grave. Senti, ma potrebbero esserci alternative appunto a questa tremenda riduzione del personale? L'unica alternativa noi sarebbe che i produttori italiani, i fiat in primis, perché è il maggior produttore italiano, ci dasse delle commesse, ci dasse lavoro da fare. Quindi più commesse che attualmente, quante sono queste? Attualmente sono veramente poche. Fiat da noi vale 500 mila airbag l'anno, che sono veramente poche. Ci dà solo le macchine a basso volume, le macchine che vende poco. Non abbiamo una macchina piccola di Fiat, che sono quelle che vende. Ne basterebbe una piccola macchina di Fiat per mantenere tutto il sito. Ci basterebbe la grande punto per intero, la 500 piuttosto che la Panda. Invece abbiamo tutti i segmenti alti di Fiat e quelle sono macchine a basso volume. Vendono poche macchine e di conseguenza pochi airbag. Senti, ma voi lavoratori avete messo in campo anche delle manifestazioni di protesta per contrastare un po' questa situazione? Noi abbiamo fatto molte manifestazioni di protesta, perché l'azienda ci ha comunicato la decisione di delocalizzare nel giugno del 2012. Il loro progetto era da gennaio 2013 mobilità diretta senza cassa integrazione, graduale, a mano a mano che diminuivano i volumi doveva diminuire il numero di lavoratori. Poi a fronte di proteste, incontri con le istituzioni, non ultima una manifestazione fatta poco prima del Natale, Natale 2012, si è arrivati l'azienda e ha deciso di presentare un piano per cercare di recuperare le quote di mercato e quindi attingere alla cassa integrazione. Quindi siamo a tuttora con un anno di cassa integrazione straordinaria. Un piccolo risultato c'è stato, la Fiat ci ha dato lavoro dei piccoli SUV che andrà a produrre a breve, però purtroppo è un lavoro dal volume molto basso, quindi abbiamo recuperato dai 210 SUV di 30 unità, siamo stati a 210 a 180, ci aspettavamo un altro risultato. Le istituzioni sono al vostro fianco? Le istituzioni come sempre non negano mai l'appoggio, hanno fatto delle lettere congiunti di tutti i sindaci, abbiamo interpellato i vari deputati di zona, però i risultati purtroppo non ci sono. Ora hai la possibilità di fare un appello, prego. Io l'appello a questo punto potrei rivolgerlo solo alle istituzioni, cioè alla politica, che sia una politica normale, in primis istituzioni sia locali che nazionali, cioè intervenire con tutti i mezzi che si può agevolare in ogni modo, oppure farsi da interlocutore principale verso i produttori italiani di automobili, perché lavorino con l'indotto italiano, perché siamo in un paese veramente, stiamo delocalizzando tutto il paese, l'unico appello che possiamo fare alle istituzioni e quindi a loro che rivolgo un appello. Fate voi da interlocutori con i produttori il modo, penso sappiate voi come farlo, e l'unico modo che abbiamo è questo, che i produttori italiani diano lavoro a indotto italiano. Bene, noi anche ci associamo al tuo appello. Grazie. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Ringrazio anche voi per averci seguito, vi ricordo il nostro indirizzo mail, labortv.it, se volete venire qui e partecipare alla trasmissione, per il momento con punto di contatto vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Grazie.